Quando l'io, in conseguenza dell'intrusione del giudice, dell'interiorizzazione del giudice come interiorizzazione dell'inconscio sociale e della giustizia punitiva, dei doveri e così via, l'io si separa dall'anima, accade automaticamente una separazione all'interno delle sue parti. La parte che vuole intimità si separa in una parte depressa e compiacente, la quale si separa dalla sua anima, che in fondo vuole soltanto l'intimità, vuole l'affettività e l'appartenenza. La parte narcisista si separa dalla sua anima, perché la parte narcisista vuole soltanto, nel suo nucleo originario, vuole semplicemente esistere come persona, essere se stesso, essere riconosciuto come persona. Il giudice si separa dalla sua anima, perché la sua anima sarebbe il discernimento, nel momento che giudica moralmente si separa dalla sua anima, e il suo nucleo animico, appunto, ripeto ancora, è il discernimento. Eccolo qua, lo vediamo come vettore di forza, quindi l'io si frantuma, finisce una parte depressa in una parte giudicante e in una parte narcisista. Ecco allora il lavoro, il lavoro da fare è un lavoro di integrazione, posso integrare ciò che è integrabile, non posso integrare una parte depressa, posso integrare una parte che vuole l'intimità, perché ha riconosciuto nella depressione il bisogno di intimità, e quindi posso integrare l'anima della depressione, posso integrare l'anima del giudizio che è il discernimento, posso integrare l'anima del narcisismo che è bisogno di essere se stessi. Allora l'integrazione può avvenire nel momento in cui avviene l'integrazione delle parti interne. Grazie.